E' previsto entro la fine di giugno il lavoro di accertamento sulla eventuale presenza di condizionamenti mafiosi nell'ASP di Cosenza. Poco meno di due mesi dunque si avranno le valutazioni della commissione d'accesso nominata dal prefetto di Cosenza, Raffaele Cannizzaro, dopo le denunce di presunte anomalie riscontrate nell'azienda sanitaria cosentina. Atti amministrativi non del tutto lineari e trasparenti, così il nuovo direttore generale Gianfranco Scarpelli aveva dato nome a quelle anomalie riscontrate in particolare negli impegni di spesa, accogliendo con favore l'arrivo degli ispettori. La direzione aziendale ha inoltre reso noto che nelle ultime settimane è stato effettuato un controllo amministrativo nelle strutture aziendali del Tirreno, da Amantea a Paola e a Cetrauro, dove sono attesi i primi provvedimenti e anche al fine di agevolare gli accertamenti della commissione di accesso, anche in queste sedi ogni spesa dovrà essere approvata da Scarpelli. Proprio sulle strutture periferiche dell'Asp Cosentina si è concentrata anche nelle ultime ore l'attività della polizia giudiziaria e tributaria a caccia di reati a danno della pubblica amministrazione. Dopo le denunce delle settimane scorse anche da parte di dirigenti della ex ASL di Paola, la Guardia di Finanza ha concentrato la sua attenzione su studi privati, laboratori di analisi e uffici ASP territoriali. Nelle indagini preliminari ancora in corso si vagliano in particolare transazioni milionarie, lodi arbitrali, consulenze, appalti per ristrutturazioni e servizi, oltre ad assunzioni. Da quanto è trapelato, le Fiamme Gialle avrebbero fatto anche visita allo studio di un noto avvocato di Paola, Nicola Gaetano, consulente legale proprio del direttore Scarpelli.